ciao a tutti ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio del let's replay di yokai watch 2 iniziamo benissimo con whisper che urla oh ora ricordo che cosa whisper perché stai gridando che problema c'è iniziamo alla grande proprio ah già beh io avevo pensato di aspettare fino al momento giusto ma sembra che ora sia un momento buono come un altro per parlarti della slot kai whisper non è detto che te ne sei ricordato ora beh comunque volevo dirti come farti più amici yokai amico sei un po troppo vicino sento l'odore di cosa hai mangiato andiamo ad albero sacro sul monte servoscuro ti dirò i dettagli la wow allora aspettate aspettate se voglio sostituirti con un altro valletto ho solo due amici mi porto puliscito perché in genere vengono con noi gli yokai più più belli diciamo no o i nostri preferiti ma ci pulisci di un povero imbecille dai portiamocelo un po dietro vediamo com'è sarà carino sicuramente potrei anche portarmi i jibanyan però aspetta un attimo link che succede anche gli yokai hanno bisogno di nutrimento vero e proprio prendi questi consideralo un favore speciale del tuo valletto yokai onigiri con prugne per tre si servono per farci recuperare le energie quando sono praticamente sfiniti per comprare altro cibo al negozio si so come funziona whisper grazie a tra le altre cose ho deciso come impostare il let's replay non farò finta di non sapere cose sarò come un master del dungeon che sa come si svolgono le cose sa quello che accadrà ma non andrò più avanti di quanto non sia necessario ovvero per niente o finalmente ecco quindi non andrò più avanti di quello che la storia ci dirà però saprò già tutto bravo link ha attraversato questo emaforo verde ovviamente succedono cose belle ai bambini che rispettano le regole mi scusi signore con la ferrari ora ora me ne vado allora ecco qui c'è questo strumento che è un un esperamini ora quello è scomparso quindi mi sa che non torna più perché in genere quando scompaiono difficilmente ritornano o comunque tornano molto più in là nel gioco non sempre riappaiono nello stesso punto poi sono particolari questi oggetti ad ogni modo eccolo qui c'è un altro ve lo ricordavo bene vieni qui e spera mini grazie comunque sia le sfere per il momento sono molto importanti non le utilizzerò ancora voglio aspettare di avere quanti più amici possibili oh eccoci al bellissimo monte selvo scura tra l'altro adesso si sbloccherà un'altra funzionalità con calma però con calma vediamo tutto non andiamo troppo avanti inoltre per terra potrebbero esserci degli oggetti luminosi quindi guardiamo con attenzione anche perché il sole picchia forte quindi potrei mancarli che succede link non riesco ad andare oltre che succede oh ma dai è ridicolo andiamo no whisper ti dico che non si può vedi non riesco a passare il solito deve essere opera di qualche yokai usa lo yokai watch per indagare tra l'altro ragazzi dello scorso episodio vi ho detto che puli shogun evoluzione o meglio forma nuova di puli shido quegli yokai cambiano forma non è che evolvono a livello 19 cambia la forma e servirà per una quest secondaria ma quando sarà il momento ci arriveremo e non so se me lo porterò fino alla fine devo ancora vedere bene chi posso reclutare anche se un paio ce li ho in mente e userò solo yokai nuovi tranne jibayan forse che resterà fino alla fine forse però attenzione che c'è blocco spino non ti lascerò passare wow whisper questo che tipo di yokai è un momento prego o questo meglio che problematico si chiama blocco spino locco spino ce la mette tutta per sbloccare la strada alle persone spesso è lì la causa quando senti qualcuno dire ho finalmente deciso di confessare il mio amore ma non riesco a muovermi o wow ma terribile proviamo a parlarci o combattiamo e poi ci parliamo o magari ci parliamo e poi combattiamo che cosa combattere mi va bene provare a parlarci grazie tante beh orai se oggi bagno neanche puliscito sono sicuro che andrà bene se volete passare da qui dovrete sconfiggermi io volevo parlare bene io che combatto da soli utilizzo un attacco tecnica guardia incanto però anche pigro e di vestire deve riposare se capita cercare avere pazienza va bene ok puliscito su che cosa fai cerchio puro ah ci purifica si va bene potrebbe tornare utile contro alcuni nemici eh e quanto poco ancora non ho il bersaglio tra l'altro ah ok ultimo ps wow che manata questo fa sumo ottimo quando potrò usare bersaglio però gli oggetti non me li fa usare strano sono ancora grigi eppure whisper mi le ha spiegati poco male e non sei male ti lascio passare ce l'hai fatta link sei riuscito a convincerlo ci sono talmente tanti trucchi nelle battaglie yokai dovremmo familiarizzare di nuovo con tutti poco per volta ok guida le battaglie perfetto quindi nuovi comandi sicuramente si sbloccheranno credo che ti farò passare va bene non avere però cioè non esserne scontento gli yokai ok facciamoli recuperare usa fiammocchio per ripristinare i punti per salvare perfetto grazie fiammocchio a lui vende talismani giusto si vediamo un po che talismani c'hai nulla che io possa permettermi perché non ho soldi vero già 25 centesimi sono povero come poi tensione a ma è guscio lento se non sbaglio ci fai qui ciao mi ha scoperto forse non vale la pena sprecare energia arrabbiandosi tutto questo parlare è inutile tieni fregate snack goloso mica male a qui potrebbero esserci yokai ma ci sono solo insetti che però una cavalletta per un pelo presa vai una mantide una mantide mantide asiatica bene e la cavalletta proviamo a prenderla ma dai era sopra per per era proprio sopra dai va bene fa nulla andiamo avanti arriviamo all'albero sacro dai che al nostro punto di interesse siamo arrivati all'albero sacro bene ora dimmi perché siamo qui certo vedi c'è un modo molto semplice per trovare amici yokai sto parlando di questa macchina a gettoni ovviamente la slot kai secondo la leggenda questo congegno è stato creato da un famoso monaco al suo interno ci sono molti yokai intrappolati se ne liberi uno vorrà sicuramente fare amicizia è così semplice sicuro nel senso che succede se salta fuori uno yokai strano le tue preoccupazioni sono superflue basta usare una moneta selezione o una moneta selezione con questa potrà scegliere quale yokai far uscire dalla slot kai comodo ci proverà aspetta le monete selezione sono rarissime sono una su un milione normalmente otteneremo io che vuoi una questione del tutto casuale con questa moneta e la certezza di ottenere quello che vuoi quindi prima di usarla pensa attentamente a quale yokai vorresti ok ho capito dato che noi vogliamo uno yokai che non abbiamo mai usato o meglio che io non ho mai usato vediamo un po quale yokai possiamo scegliere ok abbiamo malandro canom e rivela canom non l'ho mai usato e b canom tantomeno malandro si e fratosto anche il kia kia cioè rivela e poi kia kia si quindi facciamo canom dai un po particolare come yokai eccolo qui non mi si può tenere richiuso grazie per avermi liberato questa è la voce di whisper lui nell'anime doppiato da diego sabre doppiatore immenso rinominiamolo ma giusto per vedere che nomi ha cinuomo giustamente charlie fedele uomo bau oddio uomo bau è bellissimo no 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 uomo bau ma che nome è ok verrà messo al medaglio perfetto uomo bau però è bello uomo bau la slot kia ha cattolato la tua attenzione eh già ci voglio riprovare potrei farlo quando avrai più monete sì la cara vecchia slot kia è davvero un congegno fantastico tra l'altro è notato che gli yokai appartengono a tribù diverse l'ho notato whisper grazie sia chiaro che non abuserò di qr code non li userò proprio non voglio assolutamente utilizzarli però voglio fare un'altra cosa ok posso anche fare il bonus unione unendo le tribù uguali bene allora torniamo a casa ma perché scusami volevo provare una cosa ma mi sono appena ricordato come funziona ecco a questo punto andiamo un po qui a vedere che c'è una persona particolare ehi tu eh ti inquisisce la macchina nelle capsule di fronte all'albero sacro no non proprio è difficile da usare non accetta monete normali sai aspetta un attimo sento un odore assomiglia un po quello delle mie puzzette aspetta ho capito sembra l'odore di una foto della fotocamera yokai non è una foto di spiritossi a polpa anime non è da yokai watch 2 odora di foto realizzata con la fotocamera di yokai di yokai watch hai una foto scattata con la fotocamera yokai nel precedente yokai watch sì sì fammela vedere oh questa è aspetta non ne ha neanche una per un attimo mi ero così emozionato ma chiamato un peto cavoli ero così deluso che è scappata devi salvare tutte le foto che scatti nella scheda sd e deve essere una foto scattata nelle ultime due ore per quale motivo ovviamente perché altrimenti perde la fraganza ti premierò in cambio di una foto della fotocamera yokai di yokai watch capito buona fortuna proviamoci è in arrivo generoso si vabbè era fatta apposta non è che sorrido così nelle foto oh questa è questa senz'altro l'odore della fotocamera yokai di yokai watch oh cavoli ero talmente emozionato che non sono riuscito a trattenerla ti faccio un regalo è da stare nella macchina delle capsule io ho un espresso se ti interessa perché ah quella macchina ok grazie a questo punto prendiamo un altro yokai con la moneta selezione plus bene un altro yokai che non ho mai scelto komasan noko e buchin buchin e non l'ho preso komasan lo conosciamo tutti ho detto solo yokai che non ho mai usato devo farlo ciao noko oh mi hai trovato qualcuno è fortunato va bene vediamo che nomi il gioco dà sorpente striscio paperin ma perché paperin quadrifo vabbè lasciamo perdere che è meglio paperino perché torniamo a casa allora proseguiamo la nostra avventura ah che succede quella persona sembra preoccupata per qualcosa forse dovremmo parlare a quel poveretto link ah le missioni complessa le missioni chiave per andare avanti nella storia va bene proviamoci oh no sono nei guai che posso fare guarda questo ma in difficoltà raccogli il coraggio e parlagli hai ragione mi scusi va tutto bene eh ah non ti avevo visto stavo solo cercando una cicala a mio figlio piacciono le cicale le adora proprio volevo prenderne una speciale per il suo compleanno domani ho provato per un po ma sono velocissime una cicala come regalo di compleanno direi che una scelta davvero strana non preoccuparti ci penso io ok come sei davvero capace di catturare una di quelle velocissime cicale volanti esatto lasci fare a me va bene fantastico grazie mille per il tuo aiuto ah comunque ci sono molti tipi di cicale ma io vorrei una cicala marrone dopo tutto la cicala marrone è la regina delle cicale e le cicale non cicale cicale mica a pensarci bene è meglio se non è di tipo raro solo una molto comune questo tizio prima è esigente poi non lo è più poi lo è di nuovo comunque una cicala marrone molto comune si troverà su tutti gli alberi qui dovrebbe essere facile andiamo perfetto cerchiamo una cicala su questi alberi beh eccola vai primo colpo però ha le ali rosse questa e allora questa cos'è forse un po' diversa nooo perché il gioco mi odi forse era no non poteva essere rara non sono uguali comunque ho fatto eh ehi che cicala ruccicante che hai è una comunissima cicala marrone è mai possibile l'hai catturata per me no ma la tengo io è certo che è per te signora per lei diamo sempre di lei yahoo mi hai davvero aiutato il mio figlio ne sarà felice è davvero un'impresa incredibile catturare le cicali sono così agili devi essere esperto nel catturare cicale è un professionista chiaramente adesso che ho la cicala mi serve anche una gabbia per regalarlo caspita grazie mille bene domani sarà la festa della cicala mai visto qualcuno così felice per una semplice cicala ad ogni modo è bello aiutare gli altri far felice agli altri è stupendo è vero ci sono parecchi professionisti nel mondo e quando sarai uno di loro potrai guadagnare dei trofei c'è un'app specifica al riguardo al momento anche se potrebbe non riguardarti al momento un giorno però potresti diventare un professionista nel catturare insetti installiamo anche l'app trofei certo perché no e questo implica aiutare tante persone bisognose professionista di cicale wow però mi manca l'ottimo lavoro anche se il doppiatore era diverso abbiamo già quattro yokai nella squadra tutti yokai che non ho mai usato ah posso scegliere ciambellingua per carità gli onigiri buonissimi poi col gambero che mi piace un sacco il gambero però ciambellingua accontentati cupido cupistolo scusami accontentati eh quando si è in magra si accetta tutto bene dopo avervi squisito sulle nonnine andiamo avanti torniamo a casa attenzione però sembra che qui ci sia una missione da risolvere no era dentro completamente come hai fatto a vederla fuori che c'è danno sembri davvero sconvolto oh ehi link ne puoi sentire una bella allora stavamo giocando a calcio e io ho tirato mi segui cioè proprio un tiro perfetto ma arrivateo e dice no dice che la palla non è entrata ma era dentro senza dubbio no signore non era dentro aspetta perché sta parlando così in ogni caso link credo che qui qualcuno abbia bisogno di aiuto sembra un'altra possibilità per una buona azione link già tosi comporta veramente in modo strano dobbiamo fare qualcosa e anche qui possiamo scegliere il premio dobbiamo prima capire la causa detto niente attenzione c'è qualcuno che toglie le parole di bocca fatto niente no signore no signore e Whisper deve esserci sicuramente qualcuno qua attorno e parla esattamente come ha fatto Teo pare che solo noi possiamo sentire quella voce e che significa che questa è opera di uno yokai no no non è uno yokai senza ombra di dubbio già e deve essere vicino se riusciamo a sentirlo mentre parla ispezione all'area con lo yokai watch perfetto è qui proprio eccolo va di fianco a me è di fianco a me ma non lo vedo e dunque hai trovato uno yokai ottimo salve che si dice vi ho trovati voi che siete il motivo per cui Teo si comporta in modo strano per niente non si sta comportando in modo strano proprio no e invece vi dico che si sta comportando in modo proprio strano avete incantato Teo un attimo fa stavo parlando esattamente come voi per niente non stiamo incantando nessuno no signore perché continuate a fare così ammettetelo e basta dunque hai conosciuto quelli che forse sono i più testardi fra gli yokai gli nasocenti non si sono mai retti non si sono mai retti d'accordo su nulla animita loro hanno un nome che calza pennello questi tre e quello lì e quello lì che ignora è il moccio che discende dal naso hai capito tutto non ammetto nemmeno di avere il naso che gocciola no non ci convincerai a essere d'accordo senza combattere no signore e allora combattiamo fellani dunque canom ah posso scegliere il bersaglio ora perfetto ci voleva ah non posso ancora girare la ruota vabbè però volevo usare lui comunque sia per vedere come va che energy max fa dai canom morso terrificante ah infatti non mi risegnava i punti vita ma buono così dai allora ragazzi non abbiamo mai perso una battaglia uffa tutto questo dire di no sta diventando noioso ma insieme sono fantastici riescono perfino a respirare all'unisono eh che cosa no per niente non siamo abituati ai complimenti non siamo pronti no signore da dove arriva tutto questo moccio prima non c'era proprio no interessante stanno cominciando ad ammettere qualcosa fantastico in associanti volete fare amicizia sarà molto più divertente che incantare teo fare amicizia non abbiamo mai sentito parlare il nostro amico link eccezionale vi abbiamo davvero convinti di essere nostri amici per niente sul serio non ci avete ancora convinti del tutto no signore ma non incanteremo più nessuno ma caspita davvero caspita andiamo a controllare teo però era importante fare questa missione ehi teo lo chiedo di nuovo la palla prima è entrata in rete si è entrata finalmente quello era un colpo da maestro ovviamente è entrata non avevo visto bene avevate ragione ragazzi ora la smetto di discutere sono stato scorretto va bene ottimo non avevo intenzione di non vedere il non goal convinto ma sta ancora parlando in modo strano non ne sappiamo nulla noi non lo stiamo più incantando no signore proprio no e va bene allora è proprio strano teo grazie whisper la tua voce è come musica mi riempie e non mi stanca mai dedicata solo a lei gag per la canzone no attenzione c'è anche uno migliore di perfetto ottimo bambola di bronzo questa la rivendi ci fai un sacco di soldini attenzione però bisogna fare anche un'altra cosa bisogna arrampicarsi sul palo oh no per oggi basta così va bene magari tornandoci di volta in volta quando l'orologio si resetta potremmo davvero riuscirci ad arrivare in cima e in cima ragazzi poi c'è una bella sorpresa ma a te tutto a tempo debito attraversare col semaforo verde è sempre giusto non fatelo mai col semaforo rosso attenzione abbiamo attraversato correttamente i semafori medicina amara non male però adesso andiamo a casa vediamo un po' cosa succede o c'era uno strumento lì fuori e sfera piccola ragazzi le sfere servono tantissimo poi le assegno magari nella seconda parte dell'episodio voglio che ti prepari qualcosa Link no ma mi lavo i denti però anche questo serve per attivare una quest nascosta quindi mi raccomando fatelo ogni giorno direi di completare anche questa missione chiave e poi possiamo anche concludere l'episodio per oggi oh ciao prego dimmi pure devi fare la spesa no eh ti prego compra qualcosa come? scusami da così tanto tempo che c'è qualcosa che non va non ci sono mai clienti in questo negozio gestisco questa catena con i miei fratelli ma questo negozio ha peggiori incassi eppure questa non è una cattiva zona per un negozio questo è un guaglio Link ci deve essere una soluzione lo aiuteremo non è vero? sì però certo che lo aiuteremo ok ma come lo possiamo aiutare? mmm comprando qualcosa? però Whisper forse la causa è una diversa da semplice comprare qualcosa hai amici yokai? qui puoi chiedere aiuto no? puoi affrontare qualsiasi sfida qualsiasi ne sei sicuro? ok quindi che bisogna fare? vediamo un po' mmm sento la presenza di un potente yokai la mancanza di clienti in questo negozio è opera di uno yokai? forse e se questo è il motivo c'è una sola cosa da fare fai una ricerca attorno al minimarket con lo yokai watch ah ma è qui proprio dov'è? deve essere qui ah hai capito? c'è un quiz cartello hmm eh? è apparso uno strano cartello si tratta di uno yokai? forse forse si tratta di un quiz cartello quiz cartello c'è un quiz yokai scritto su questo quiz cartello un quiz yokai cioè? ehi ehi fammi finire se risolvi il quiz yokai scritto su quiz cartello apparirà il misterioso punto yokai la risposta è il nome di uno yokai portalo davanti al punto yokai e e cosa? cosa succede se lo porto? non lo so eh? come fai a non saperlo? beh è un quiz cartello se lo sapessi che quiz sarebbe ma sono certo che succederà qualcosa di bello senz'altro e dato che siamo qui quel qualcosa di bello è legato al negozio qualcosa di bello? ma perché mi guardi così? credimi succederà qualcosa di bello ad ogni modo cerchiamo di risolvere i quiz yokai che ne dici? ne sei proprio certo? è per forza ecco un piccolo quiz per te indovine il nome di questo yokai fun fact se voi premete B e uscite Whisper vi dirà il nome dello yokai però è facile dai indossa abiti tradizionali tribù generosa fa venire fame a chi incanta a chi vuole essere nonno fame è lui vedi? e nonno fame ero dove lo prendiamo però? wow avevi ragione è apparso uno strano cerchio non mi credevi link ah comunque questo è il punto yokai nel caso di questo punto yokai pare che ti salva nonno fame però non ho fatto amicizia con nonno fame devo trovare questo yokai e fare amicizia con lui ora che mi ci fai pensare il post ideale per trovare nonno fame ne presti le mini market però non mi sembrano i paraggi potrebbe essercene uno nella cucina di casa tua link però sarebbe davvero troppo facile quante probabilità ci sono? controlliamo comunque quindi c'è davvero nonno fame nella tua cucina? scherzo sarebbe troppo bello cosa sta facendo la mamma? oh che fame ho bisogno di qualcosa di dolce? era certa che ci fosse una barretta di cioccolato da qualche parte l'avevo presa per link ma credo che me la mangerò io oh mamma non è un po' strano? non sei Jibanyan ne stai cercando di mangiare la mia barretta di cioccolato che sia stata incantata? eh potrebbe essere vediamo dove sei nonno fame ti scoverò eccoti qui davanti al frigorifero allora che cosa fai qui a casa mia? non dovresti essere davanti al mid market? hai trovato uno yokai e ha sicuramente nonno fame trovato ma questo è nonno nonno fame nonno fame era qui per davvero cioè wow che bello è perfetto proviamo a fare amicizia una volta fatto ciò puoi portarlo al punto yokai mi pare ragionevole ah hai un minuto? riesci a vedermi giovanotto? avrei un favore da chiederti dovrebbe esserci del cibo in frigo vedi non so come si apre i frigoriferi si sono complicati per noi anziani ehm non posso darti cibo dal frigo però siamo gli unici che possono aiutarlo il cibo preferito di nonno fame è l'onigiri quindi portiamoglielo un onigiri eh mi chiedo se non ho qualcuno da qualche parte se non ne hai vai a comprarne un mio negozio fare felice il commesso è l'onigiri con prugna ok ce l'ho allora consegniamoglielo bene un onigiri con prugna giovanotto potresti potresti saresti così buono a darmi quel onigiri? certo il minimo che possa fare per ringraziarti è mettermi a tua disposizione nonno fame bene i soprannomi for fun nonno vetusto bra bavo e vecchino mamma mia vecchino un po' brutto vecchino eh wow grazie oh 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 molto conveniente proprio quello che volevamo a dire il vero ci sono altri modi di fare amicizia a volte lo yukai che avrai sconfitto in battaglia vorrà diventare tuo amico che sto facendo? che abbia mal di stomaco? un onigiri non era sufficiente che fame vabbè andiamo al negozio dai coraggio tocca a noi andiamo non hanno fame medaglia yukai attiva bene uh penso che mi mettono qui a riposare per un attimo direi che è giusto ho un po' di fame passerò al minimarket per una merendina ah ho appena finito di mangiare ma credo che non fosse abbastanza oh non posso resistere al richiamo dei dolci con loro uno tira l'altro vanno tutti al minimarket il potere di nonno fame sull'appetito è veramente formidabile vero? entriamo wow c'è la fila wow guarda tutte quelle persone in coda alla cassa non ci sono mai stati così tanti clienti in negozio molto bene per dimostrare il mio apprezzamento per il vostro supporto da questo momento tutto ciò che è nel negozio è scontato molto bene allora prenderò anche un po' di pudino non dico mai di no ai dolci e si vede caro oh cara e ti sono vicino comunque questa link è ciò che chiamo un'intesa proficua per tutti una che cosa? come dire un'intesa che è proficua per tutti comunque visto che siamo qui perché non compriamo qualcosa? non credo mi serva per il momento sai? sta scontando tutti i suoi articoli oh beh in questo caso se vuoi puoi comprare qualcosa ti farò uno sconto quanto lavoro dovrò assumere qualcuno che mi aiuti bene non ho mai fatto un bel lavoro direi quindi che questa missione principale è conclusa no? d'ora in poi oltre agli yokai dovremmo tenere d'occhio i quiz cartelli già vengano signori è completato anche se in realtà è benghino chissà 20 punti esperienza dall'inizio è tanto tecnipedia o user karate user karate buono scena bonus non ho fame datti una calmata oi puoi continuare con la storia bene credo che lo faremo nel prossimo episodio bene per questo video è tutto io come sempre vi ringrazio per averlo seguito in descrizione trovate i link ai social che vedete anche qui a schermo inoltre se ancora non siete iscritti magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima bye bye